Via! Via! Madonna Santissima! Via, per favore, via! Patrizia! Filippo! Fuori! Incredibile, di drammatico! Madonna! È pazzesco! Incredibile! Correte! 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 Madonna Santissima! Guarda come si muove! Ma è rimasto qualcuno dentro! Fuori! Via! Fuori di qui! Passate dai pazzi ancora a rimanere! Fuori! 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 Siamo giusti, andiamo giusti. Madonna santissima. Sta cadendo tutto il capo. Via, via, via. Via, via, via. Madonna che sta venendo adesso, ragazzi. Patrice, vieni qua, 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 qua. Fuori. Andiamo via. E' assupato la banca, e' assupato la banca. Ragazzi, stomperato dalla sua natura da banca.